Fake news al tempo della Repubblica Romana? La presunta congiura sanfedista del 15 luglio 1847. Nell'estate del 1847, la popolazione di Roma fu coinvolta in una caccia all'uomo per tutta la città. La furia popolare era mossa dal risentimento per l'organizzazione assai dubbia, di una congiura tesa ad uccidere membri dei movimenti progressisti romani anti-asburgici. C'era poi un obiettivo secondario che invece voleva difendere le libertà appena acquisite a seguito, dell'elezione del nuovo Papa Pio IX. Il nuovo Vescovo di Roma, in poco più di un anno di pontificato, aveva definitivamente rotto con la vecchia. Gestione politica del predecessore Gregorio XVI, progresso, istituzione di una consulta laica. Una libertà di stampa fino ad allora negata. Avevano abituato le élite cittadine ad una certa libertà di pensiero mai provata prima nella città eterna. Una libertà che ora i cittadini cercavano di tenersi stretta, mentre spingevano per avere ulteriori concessioni riformiste da richiedere al venerato Santo Padre. L'11 di luglio a tale proposito si assistette all'ennesima cerimonia di ringraziamento in onore di Pio IX. Una statua colossale del Papa fu posizionata a Piazza del Popolo tra il giubilo della folla. Nei giorni successivi, mentre l'evento veniva descritto accuratamente dalla moltitudine di giornali nati grazie alla concessione sulla libertà di stampa del 15 marzo 1847. Il festoso clima cittadino divenne però improvvisamente plumbeo dopo. L'affissione anonima sui muri di Roma di un atto di accusa nei confronti di elementi vicini alla cerchia vaticana, reazionaria legata al cardinale Lambroschini. L'accusa pesantissima. Nei confronti del cardinale era quella di voler organizzare una tragedia popolare servendosi dell'appoggio di un manipolo di militari e civili tra i quali spiccava il nome del colonnello Nardoni. Si parlava di pugnali con inciso il nome di Pio IX, di fantomatici segni sulle case appartenenti a eminenti membri progressisti cittadini, insinuando l'arrivo a Roma di facinorosi cittadini faintini legati alla vecchia cerchia vaticana di Gregorio, sedicesimo con l'obiettivo di creare scompiglio e uccidere gli avversari politici. L'effetto fu esplosivo. I rioni entrarono in subbuglio, mentre la prevista festa del 17 luglio, per il primo anniversario della concessione dell'amnistia ai detenuti politici, venne prontamente sospesa. Gruppi di simpatizzanti radicali scatenarono una caccia all'uomo in tutta la città. Il capitano Mozzarelli, uno dei supposti congiurati, il cui nome era riportato nell'elenco affisso, venne affrontato in strada e rischiò seriamente il linciaggio che fu evitato solo grazie al tempestivo intervento del principe Torlonia, il governatore Monsignor Grassellini, capo della polizia, dovette dimettersi, mentre alla spia Minardi, anch'essa in elenco, fu data caccia sui tetti di Roma per diverse ore, grazie all'ausilio di buona parte della popolazione con segnalazioni di avvistamento del fuggitivo che si susseguirono per tutto il giorno, altri congiurati, freddi e alai. Vennero invece arrestati fuori città nei giorni successivi, mentre tentavano la fuga. Dal caos di quelle giornate concitate emerse la figura di Angelo Brunetti detto Ciceruacchio, capopopolo del rione Campo Marzio, già da tempo al centro dell'organizzazione di banchetti e cortei. Ciceruacchio con un manipolo dei suoi si prodigò in lungo e largo per tutti i rioni per evitare inutili. Spargimenti di sangue e assicurare alla giustizia i congiurati. Un'azione che ampliò a dismisura la popolarità del Brunetti che pochi giorni dopo venne omaggiato di una tabacchiera d'oro, direttamente dalle mani del principe Aldo Brandini, dal nobile circolo romano durante un banchetto organizzato in suo onore. Un nuovo ordine si era instaurato in città. La congiura portò definitivamente alla saldatura tra la restia nobiltà romana, le élite progressiste e il resto della popolazione rionale. In pochi giorni fu sdoganata definitivamente l'organizzazione della nuova guardia civica romana. Lo scopo era di ristabilire l'ordine in una città ormai fuori controllo. Partecipò anche l'aristocrazia romana, che apre i propri palazzi dando sedi stabili alle truppe civiche rionali. I giornali romani, fino ad allora abbastanza uniti nel sostenere le politiche del nuovo corso Vaticano, si spaccarono, quelli progressisti scivolarono pian piano verso un acceso radicalismo anti-gesuita, aggiornando i cittadini costantemente anche sul grande processo pubblico che di lì a poco si sarebbe aperto contro i congiurati arrestati e non. Nel frattempo i fogli moderati tentavano di fare distingo tra le posizioni dei vari personaggi convolti nella congiura. Da quel momento però i dissidi e le polemiche tra le due parti crearono un solco crescente che portò infine alla fuga di redattori moderati e alla soppressione dei loro giornali. Si registrarono anche casi di omicidio di famosi giornalisti moderati come quello dell'abate Ximenez del giornale Il Lavaro. In quell'atmosfera nacquero peraltro altri nuovi giornali dedicati esclusivamente alla educazione della nuova guardia civica come la speranza erede del giornale Il Fanfulla. Vasto e articolato fu il dibattito circa la veridicità della congiura. Molti dal clima incandescente di quei giorni ne trassero vantaggio politico. Su tutti i sostenitori delle idee di Mazzini che di festa in banchetto sdoganarono le idee repubblicane e Mazziniane a Roma. O ancora i sostenitori dell'organizzazione della nuova guardia civica, la cui istituzione aveva portato alle dimissioni del riluttante segretario di Stato cardinale Gizzi. Diversi giornali romani, basti vedere il. Giornale di Sterbini, il contemporaneo numero 30 del 24 luglio 1847. Cavalcarono in chiave radicale il risentimento popolare. Mentre giornali internazionali come il Times accusarono l'impero asburgico di aver organizzato la congiura, causando la risentita protesta dell'ambasciatore d'Austria Lutzow dall'altra parte della barricata Pochi e Sparuti. Giornali difendevano a fatica i vertici del governo Vaticano. Questi pochi giornali si faranno invece più arditi dopo la fine della Repubblica. Romana con pubblicazioni come Grande Riunione tenuta nella sala dell'ex Circolo Popolare di Roma, che deriderà apertamente i radicali sconfitti ricordando il. Nulla di fatto per mancanza di prove del grande processo così pomposamente presentato in quel periodo. Proprio della Grande Riunione ci rimangono ardite e sarcastiche vignette antirepubblicane, fatte sullo stile del Don Pirlone Giornale Radicale di Michelangelo Pinto. Altra testimonianza eccellente e di parte reazionaria è rappresentata dal testo di Giuseppe Spadastoria della Rivoluzione di Roma e della restaurazione del governo pontificio, dal 1 giugno 1846 al 15 luglio 1849, che riportò la cronaca dei fatti di quegli anni polemizzando apertamente con i gruppi radicali romani, ma anche con i nobili del Circolo Romano che avevano a suo vizio guidato la popolazione alla sollevazione. Contro Pio Nono. Forti dubbi rimangono oggi sull'effettiva consistenza della congiura. Possiamo solo riportare e confrontare le testimonianze coeve che comunque sono di parte. Meno dubbi rimangono invece sugli effetti. La svolta radicale dei progressisti romani. La partecipazione della popolazione alla caccia all'uomo e la nascita della guardia civica cittadina che nei mesi successivi inquadrerà nei suoi randi buona parte della popolazione rionale, partecipando in seguito agli eventi bellici della prima guerra di indipendenza del 1848, per un quadro completo sui fatti avvenuti a Roma negli anni 1846. 1849 si veda tra gli altri. L'archivio Fondo Giornali presso la Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea. Il testo di Giuseppe Spada, Storia della Rivoluzione di Roma e della Restaurazione del Governo Pontificio. Dal 1 giugno 1846 al 15 luglio 1849. Il testo della Grande Riunione tenuta nella sala dell'ex Circolo Popolare di Roma. Il testo di Alfonse Balleidie, Roma e Pio IX, 1847. Il testo di Giuseppe Monsagrati, Roma senza il Papa. Il testo di Tomassini Stefano, Storia avventurosa della Rivoluzione Romana. Il testo di Paolo Guadagno, Banchetti Romani Socialità e Politica dall'ascesa di Pio IX alla Repubblica Romana.